Quando si parla di sesso ovviamente la gente si triggera, come dicono i giovani, quindi postilla al video Amore senza attrazione. Andatevelo a guardare se non l'avete guardato. Ah Luca, quindi vuoi dire che se non c'è più attrazione dovrei lasciare il mio compagno perché hai detto che la relazione è finita? No, io non ho detto questo, ho detto qualcosa di diverso. Ho detto, in molte di queste situazioni le coppie vanno a cercare la soddisfazione sessuale altrove e allora sarebbe meglio ammettere che la storia è finita. Questo non vuol dire che due persone possano tranquillamente vivere una relazione priva di attrazione sessuale. Io personalmente non sono assolutamente d'accordo. Secondo me si può trovare una soddisfazione all'interno di una coppia molto maggiore accettando di cambiare la persona con la quale si sta, accettando la sofferenza della fine di una relazione, accettando il fatto di poter rimanere da soli, cosa che terrorizza tantissime persone, la maggior parte delle persone. Sto dicendo che quelli che non pongono fine ad una relazione non accettano tutte quante queste cose? No, assolutamente. Magari due persone stanno benissimo senza fare sesso. Ma allora, nel momento in cui io dico non sono d'accordo con una coppia che sta insieme senza fare sesso, quelle stesse persone non dovrebbero arrabbiarsi se stanno bene. Se una persona viene da me a dirmi non sono d'accordo, evidentemente tu hai dei problemi con il sesso, se vuoi che all'interno della tua coppia ci sia del sesso, io non mi arrabbio. La vivo tranquillamente, la differenza con le mie idee, il fatto che qualcuno possa non essere d'accordo con me. Il fatto che invece un'idea contraria alla nostra ci faccia stare così male, beh, probabilmente dice qualcosa di noi e non della persona dalla quale pensiamo di essere attaccati.